Il mio più cordiale e sincero benvenuti a tutti voi in questo mio semplice umile canale dedicato all'armonica cromatica. Non sono un musicista assolutamente professionista, sono un artista ma in un altro settore, nel disegno, nel modellismo e nell'acquarello. Bene, detto questo, di professione sono un formatore di professionisti sportivi, posso pensare personal trainer piuttosto che gli insegnanti di diverse discipline quali yoga, metodo pilates e soprattutto mixer martial arts, arti marziali, difesa personale. Questa è la mia professione. Tutto ciò che vedrete in questo canale è relegato alla mia profonda passione che nutro da sempre anche per la musica. Spero che il mio lavoro sia a vostro vantaggio, vi sia utile, vi torni utile perché è questo che conta. Da oggi cominciamo questo videocorso completamente gratuito, dedicato soprattutto a coloro i quali volessero partire bene col piede giusto per imparare a suonare l'armonica cromatica. Questo piccolo, grande e, devo dire, per tal'universo è difficile strumento, anche se per partire non sembra così poi tanto difficile, ma ogni cosa a suo tempo. Allora, il corso è dedicato, il videocorso, al metodo Anzaghi, al vecchissimo ma sempre valido, a tutt'oggi il migliore a mio avviso, metodo che da sempre ha insegnato a suonare, ancora prima dell'avvento all'interno dei conservatori, appunto questo favoloso strumento musicale. Partiamo con l'esercizio zero preparatorio del metodo. Mi raccomando, voi potete anche staccare l'audio, fermare il video e fermarlo sullo spartito, così potrete esercitarvi senza nessun tipo di vincolo, di tempo, eccetera, con note prolungate, long tones, cosa che vi consiglio di cuore, perché più starete sul suonare notte lunghe, filate e il più omogene possibili e meglio partirete con questo fantastico strumento. Altrimenti mi seguite in video, ogni battuta io la ripropongo per due volte, ok? Bene, non mi rimane altro che augurarvi un buon apprendimento e un buon divertimento. Aiutatemi nel diffondere questo canale, se vi piace iscrivetevi con la campanellina e aiutatemi appunto a condividerlo. Se apprezzate i miei lavori, un bel pollicione ci sta bene, non è per quello che faccio i video, però ci starebbe molto bene, perché a voi non costa niente mettere un bel apprezzamento, a me invece sono costate ore e ore di argompegno a volte, lo ammetto, tutto qui, visto che non sono un professionista. Buona musica amici, alla prossima, ciao! Seconda Terza battuta Quarta battuta Quarta battuta Quinta battuta Sesta battuta Sesta battuta Settima battuta Settima battuta Settima battuta Settima battuta Mettima battuta Ottava battuta Ottava battuta Ottava battuta Nonna ed ultima battuta Buongiorno.